dove vai la palla? dove vai la palla? dove vai la palla? ecco la palla un ufo meraviglioso mega galattico fighissimo ahhh ahhhh ahhhh cari cari Sì, sì, sì. Grazie a tutti. 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 Ciao, ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bye. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.